Amici di Milan.soccer, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Dunque è il giorno, è il giorno che aspettavamo da tanto, si torna ufficialmente in campionato con lo scudetto sul petto. I campioni d'Italia alle 18, in quel disanziro scenderanno in campo contro l'Udinese e c'è un dettaglio, una cosa molto molto particolare di cui adesso parleremo. Prima però vi chiedo di iscrivervi qui al canale, iscrivetevi numerosi e gratuito e potrete avere così sempre, sempre informazioni dedicate al mondo, al mondo Milan. Quindi possiamo dirlo con grande serenità e con grande pacatezza i campioni d'Italia siamo noi e dobbiamo continuare a dimostrarlo. Con un grande pacatezza perché appena apri i giornali subito ti viene il sangue e la testa, come quello di stamattina, arrivi a leggere che l'Inter si è rafforzata. Questo è quello che ha scritto la Gazzetta dello Sport. Milan bis si può Inter rafforzata. Ora, io non riesco davvero a capire come si possa considerare la seconda squadra di Milano rafforzata. Tenendo presente un dettaglio molto 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 particolare e non secondario, il mercato non è concluso, il mercato si conclude il 31 agosto e starete a vedere se non è quello che vi dicevo, cioè che l'Inter cederà scriniar. Ma torniamo a noi. Oggi è giorno, dicevamo, di Milano-Udinese e ci sono due notizie importantissime. La prima notizia importante è che Tomori ha firmato. Tomori ha firmato il suo rinnovo per altri cinque anni, per cui grazie alla tua voglia di restare al Milan. E la seconda notizia riguarda invece il pallone d'oro. E sì, perché ieri sono scritte le cosiddette nomination. E guarda caso, il destino, come si dice, il karma. Arriva sempre il karma. Per cui, dopo tutto quello che abbiamo dovuto passare, dopo quello che abbiamo trascorso, con l'ex portiere che oggi gioca, anzi non gioca ancora, in quel di Parigi, candidato al pallone d'oro, candidato al premio come più forte portiere al mondo. E poi arriva Magna, che assieme a, diciamo così, ho un attimo di vuoto mentale, insieme a Leao, è l'unico, sono gli unici due del campionato italiano, non c'è un italiano, sono gli unici due del campionato italiano a essere candidati al pallone d'oro, insieme a Vlaovic. Quindi i tre che giocano in Serie A e che sono, diciamo così, candidati al pallone d'oro, sono Leao, Magna e Vlaovic. Tanto per ricordare a qualcuno che il Milan non solo si è rafforzato, ma i suoi giocatori, quelli forti, sono giocatori che hanno un anno di esperienza in più, hanno ancora più forza e vogliono sempre più crescere. Quindi che dire di questo campionato che oggi inizia, ore 18, Milan Udinese, noi saremo a San Siro con Mattia. Vai Mattia, a te la linea, ricordati. Si scherza un po', si gioca un po', siamo felici, siamo felici dell'estate trascorsa, ora ritorneranno un po' i patema d'animo e le agitazioni, ma sono quelle che ci tengono vive, quelle che ci piacciono, solleticare. Una curiosità, dicevo poc'anzi, Milan Udinese, è sempre stata una partita difficile per il Milan, non tanto perché non abbiamo mai battuto l'Udinese, ma quando abbiamo vinto gli scudetti è sempre stata un po' la bestiolina nera, quindi diciamo che è il primo test, quello che ci interessa, poi ci sarà Bergamo e poi si andrà avanti fino ad arrivare al 3 settembre il derby. Ricordatevi, sono aperti, sono aperti, diciamo così, l'acquisto per i biglietti. Attenzione, molto importante è che il calcio mercato, come ho detto, chiude il 31 di agosto, quindi il Milan continua con il suo calcio mercato. I nomi sono quelli, quindi è inutile rifarli, è chiaro che al tempo dicevamo Botman, Renato Sanchez, poi loro non sono arrivati e ne sono arrivati altri, per cui in questo momento sono quelli che abbiamo sempre fatto, video precedenti, ma nel caso in cui dovessero cambiare le cose siamo pronti ad informarvi per potervi tenere sempre sulla corda. La formazione di Milan Udinese, la formazione di Milan Udinese vede dunque in vantaggio Rebic rispetto a Giroud, però tenete presente che questa è la squadra che scende in campo alle 18 e 30, poi nel corso della giornata, ne possono succedere di tutti i colori. Nel corso della partita c'erano i cambi, insomma. Magna, destra, Calabria, sinistra, Teo, Tomori, Calulu, Benasser, Crunic, a destra Messias con Diaz e Leao e in attacco Rebic. Questa è la formazione che il mister Pioli ha scelto per l'esordio in campionato. Poi tenete presente che la mia formazione preferita è quella detta in difesa, mentre a centrocampo vedrei Tonali Benasser, sulla destra Adli, al centro, Decateler, a sinistra Leao e in attacco Rebic. Questa è la mia preferita. Poi staremo a vedere, insomma, Rebic è uno che si presta bene a sostituire anche Leao. Insomma, il campionato è lungo. Ovviamente il popolo rosso-nero in massa, come ha detto ieri in un'intervista molto interessante Sandrino Tonali. Sandrino Tonali ha detto che siamo soli noi e i nostri tifosi. Che bella immagine, è romantica, perché giustamente i giornali ci danno un passo indietro. Io non riesco ancora a capire rispetto alla Juventus e all'Inter, ma lo facevano anche l'anno scorso e poi sono rimasti muti e sono saliti sul carro del vincitore. La Roma leggermente sotto al Milan. Se dovessimo fare oggi un pronostico potremmo dire che le squadre da battere sono oggettivamente queste quattro, anche se ci sono delle sorprese che potrebbero sicuramente essere, a mio modo di vedere, abbastanza improbabili. Perché la Lazio non ha tenuto il passo della Roma, perché la Fiorentina si è stabilizzata, perché è stato un calciomercato veramente povero e dove il colpo per me, per me, per me, per me, in prospettiva soprattutto è quello di Decateler, mentre Di Maria è venuto un anno per allenarsi per il mondiale. È tutto, ci sentiamo più tardi da San Siro con Mattia, intanto un saluto della Germania, baci da Terrazza, Mila, ciao!